Dopo il video che veramente mi ha distrutto la testa, mi ha sconvolto l'esistenza C'è anche il gioco, vi presento Pineapple Pen Tra l'altro guardate che bellina quella, quell'ananas Clicca per colpire, vai Pineapple Pen Ma sul serio? Questo regà è il gioco dell'anno, altro che Butterfield 1 Presa, sì Cosa devo prendere? Non ho capito Preparatevi alla cosa più epica del mondo Pineapple, apple pen No regà, devo risentirla per favore Presa, mamma mia Ma quanto sono pro? Regà, è difficile, provate anche voi Una mela con delle ali da pipistrello E un ciondolo a forma di teschio, originale Mamma mia Apple pen Apple pen Nooo Anche lei piange Ok, quant'è il mio record? Non lo so Ma no, non volevo cominciare Voglio vedere il mio record Cos'è questa roba? Devo colpire dieci ananas Bene, ok Una Nooo Alla Ah è lì il mio record Ma che cavolo l'aveva visto? Ma vaffanculo, io che lo stavo cercando Devo dire che la prima è la più difficile Nooo Madonna Se non bestemmio, guarda Sì 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 Nooo No, non voglio giocare con le bici Due Oddio No, ma vaffanculo Culo Io mi incazzo Basta C'è due Bene No Cosa? Ma cosa fa questa? Ah, ti dà le monetine E perdo Le monetine un cazzo Ma porca È possibile Porta Anna la madonna Io Finché non faccio almeno 20 Non me ne vado Mamma mia Oddio Undici rega Tredici Oh Oh mio Dio Una mela zucca Non ha senso questa cosa Allo scudo Oddio No 25 Però il mio obiettivo l'ho raggiunto 20 Provatelo anche voi Non è facile Ve lo assicuro Anzi no Non provatelo Stavo scherzando Ma tra l'altro la voce è troppo bella E io perdo Bene Calma Non ci vuole fretta in questo gioco Calma Oh tutte facili? Oh tutte facili? Calma Calma 5 Mamma mia Sì ma vaffanculo Giuro che non ascolterò mai più questa canzone nella mia vita Perché mi sta rovinando l'esistenza Non demorilizzare Vabbè avete capito Devo superare il mio record Di certo sarà due Certo Dai Ma la seconda è sempre Ma porca No Si ci riprovo un'altra volta E non è andata molto bene Ma io non mi abbatto facilmente Ci riprovo un'altra volta E questa volta è andata meglio ma Porca puttana E' arrivato a 23 E come faccio a prenderla questa mela? Guardate flash Dai Uno Due Tre Sono coordinato come una mucca morta Vabbè per questo episodio basta Non ne posso più Ditemi se voi ci giocate E quant'è il vostro record Di sicuro avrete fatto più di questo Ne sono sicuro Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Bye ragazzi Bye ragazzi Il mio vero raffio Siamo qui su Twice Twice Sire 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 Sire